Buonasera, buonasera a voi. Allora, l'altro giorno Vladimir Putin intervenendo ad un congresso a San Pietroburgo ha parlato di Silvio Berlusconi e al termine di questo suo incontro, dove ha sottolineato il fatto che è stato praticamente l'unico a voler fortemente cercare di trovare un accordo, un disgelo perlomeno fra la Russia e la Nato sia stato proprio Silvio Berlusconi. D'altronde conosciamo bene il rapporto che Berlusconi aveva instaurato con Vladimir Putin e non solo. La politica di Silvio Berlusconi, la politica estera sicuramente era molto ma molto più lungimirante di quella che stanno attuando oggi i paesi in particolare dell'Unione Europea, perché ne stiamo vedendo chiaramente le conseguenze, tutto quello che abbiamo visto in questi anni sullo scacchiere mondiale ha grande responsabilità in primis da parte degli americani e poi dello zerbino Europa, perché gli europei sono diventati un vero e proprio zerbino degli americani, fanno tutto quello che gli viene detto con gravissime conseguenze che poi ovviamente vanno sempre molto a discapito degli europei stessi, perché anche la guerra in Ucraina, ovviamente essendo noi più vicini, ne paghiamo le maggiori conseguenze. Ecco, al termine di questo suo intervento, dove ha sottolineato l'importanza di Berlusconi in questo tentativo, ha chiesto un minuto di silenzio. Credo un gesto molto importante che Vladimir Putin in questi 23 anni dove è a capo del Cremlino non aveva mai chiesto per nessuno, questo a meno a memoria d'uomo, e invece ha voluto farlo nei confronti di Silvio Berlusconi. Ora io, sottolineando questo fatto che ritengo un fatto assai importante che ci deve far riflettere, voglio un attimino anche tornare su alcuni degli ultimi interventi fatti da Silvio Berlusconi, che sicuramente vi ricorderete, quando praticamente attaccò pesantemente Piotr Zelensky. Zelensky che viene dipinto in Europa come un eroe, come un democratico, invece Berlusconi è stato, ripeto, l'unico ad aver avuto il coraggio di dire esattamente il contrario, cosa che pensano chiaramente anche Salvini e la Meloni, ma c'è una differenza. Salvini e Meloni se vogliono stare al governo devono assecondare il volere degli Stati Uniti, mentre Silvio Berlusconi si poteva anche permettere di criticare la posizione dell'Unione Europea e degli Stati Stati Uniti con quel famoso intervento. È chiaro che questo però è un'eredità importante che lui ci lascia. Poi, come sappiamo, io ho avuto modo di criticare anche alcune sue posizioni, perché è evidente che quando uno poi deve in qualche modo salvaguardare se stesso, deve salvaguardare i suoi interessi, scende, deve scendere a patti in qualche modo con i poteri forti, cosa che è stato costretto a fare anche Berlusconi. Però, ripeto, questo che non so come lo vogliamo sottolineare se un sassolino che si è tolto dalle scarpe ha voluto qualche mese prima di morire dirlo avendo una posizione assolutamente smarcata rispetto ai suoi alleati e rispetto direi a tutto il Parlamento italiano che sappiamo benissimo come la pensa e da quale parte sta remando. Quindi attenzione nella politica estera va sempre monitorata, altrimenti non solo vediamo quello che succede tra ucraini e russi, ma dobbiamo anche fare qualche passo indietro e ricordarci invece cosa sta succedendo ed è successo in Libia, semplicemente perché la Francia, gli americani e gli inglesi pensavano fosse cosa buona e giusta ammazzare, eliminare Gheddafi. Le cose sono solo semplicemente peggiorate. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.